La Nissa vince di misura contro il Gela 2 a 1 e guadagna l'accesso al secondo turno di Coppa Italia di eccellenza. Bianco scudati in vantaggio al diciassettesimo del primo tempo con Morales che scatta sul filo del fuorigioco e supera l'estremo difensore gelese. Sotto di un gol il Gela non si scompone e al ventesimo della ripresa pareggia con Valenti. Sull'1 a 1 le due squadre si allungano ma è la Nissa a trovare la via del definitivo vantaggio ancora con Morales. Un successo che al di là del cammino in Coppa Italia consente alla squadra allenata da Alessandro Settineri di voltare pagina rispetto alla pesante sconfitta 3 a 0 di domenica scorsa a Casteldaccia. La partita si è giocata a porte chiuse al campo sportivo 11 martiri di Riesi. Lo stadio Marco Tomaselli di Caltanissetta è attualmente indisponibile perché sono in corso i lavori riguardanti la collocazione del nuovo manto sintetico. Intanto domenica 4 settembre è programmata la seconda giornata di campionato. Per il calendario si tratterà del primo impegno casalingo per i nisseni contro l'oratorio San Ciro e Giorgio di Marineo. Successivamente il 18 settembre la Nissa sarà impegnata all'esseneto di Agrigento per un derby che riporta alla memoria confronti importanti in categorie superiori. Il 2 ottobre un'altra partita prevista in casa contro la Parmonval.